Sì ragazzi, l'ho venduto! Ebbene sì ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. La scorsa settimana, lo so, scusate, mi è uscito un singolo video perché mi trovavo in vacanza a Tropea, quindi avevo registrato prima quel video la settimana prima per poi pubblicarvelo nella settimana in cui non ci sarei stato, però purtroppo ecco, quando parto riesco a pubblicarvene uno solo, però dai, ci può stare ogni tanto un po' di stacco. Da oggi sono tornato e torno a bomba con un video che in realtà oggi ho fatto anche l'anno scorso e in realtà forse anche l'anno prima, ovvero che ho venduto il mio iPhone 15 Pro Max, purtroppo perché devo dire che quest'anno mi è parecchio dispiaciuto, è uno di quei iPhone che avrei tenuto molto volentieri come iPhone per farmi video, ecco come iPhone secondario, poi ovviamente non sono così ricco da potermi tenere tutti gli iPhone che compro, quindi per forza di cosa se voglio acquistare quello che verrà dopo, devo vendere il precedente, alla faccia di tutti quelli che dicono eh ma quanti soldi hai che ti compri 10.000 iPhone? Ragazzi non è che mi compro 10.000 iPhone, quello precedente lo vendo sempre, alla fine l'iPhone che comprerò dopo mi viene sui 400, in un anno 400€ uno se li riesce a mettere da parte, 1.400 già iniziano ad essere un po' più complicati. Comunque tralasciando questo ho anche un nuovo microfono, spero di averlo settato bene e di non dover registrare questo video di nuovo perché fa veramente caldo. Allora anche per chi non mi conoscesse, sì ho venduto già l'iPhone, manca un mesetto e mezzo forse al rilascio del nuovo iPhone, quindi manca abbastanza, però ecco mi son detto manca così relativamente poco, ho comunque un iPhone che non è che fa schifo, è un 15 plus, quindi posso stare benissimo un mese con un 15 plus, l'ho venduto anche per non farmi abbassare troppo la valutazione. Poi non so se fino a settembre la valutazione rimaneva la stessa da cui l'ho venduta adesso, ovvero 970, tra l'altro l'ho venduto direttamente a Trendevice, allo store questa volta, non nel sito, quindi poi fatemi sapere se volete il video dell'esperienza di vendita tramite proprio il negozio fisico, così magari ve lo faccio, però ecco non sapevo se poi andando avanti la valutazione si sarebbe abbassata di parecchio, quindi ho deciso di vendermelo adesso, tanto agosto, ragazzi siamo un po' tutti nel chilling, si sta abbastanza bene. Partiamo con una domanda, come mi ci sono trovato con questo iPhone 15 Pro Max? Beh ragazzi, devo dirvi relativamente bene, meglio rispetto che al 14 Pro Max dell'anno scorso, questo sicuro a mani basse, devo dirvi che il 14 Pro Max dell'anno scorso è stato uno degli iPhone, per quanto mi riguarda, peggiori degli ultimi anni, sarà anche stato perché c'era un po' l'effetto placebo del senso che venivamo da un iPhone 13 Pro Max che era stato uno degli iPhone migliori di sempre, poi passare al 14 Pro Max, che magari era comunque un ottimo iPhone, ma rispetto al precedente, faceva pena, magari ecco anche per quello che ho un brutto ricordo del 14 Pro Max, però rispetto al 14 Pro Max mi sono trovato meglio con questo 15 Pro Max, e perché? Prima di tutto per il design, per il design del titanio, perché? Perché il titanio sicuramente mi ha dato meno pensieri per quanto riguarda graffi, sporcizia soprattutto delle fotocamere, che per me che faccio foto, video relativamente proprio all'iPhone, ogni volta stare lì a pulire la fotocamerina perché si sporcava e soprattutto non si puliva, era veramente uno stress enorme. Con il titanio, il titanio essendo opaco non si sporca, al massimo un pochettino di polvere, ma si riesce a togliere e quindi veramente avevo zero pensieri al riguardo. Anche per i bordi, non lucidi, sicuramente dà meno pensieri perché a graffiarsi non si graffia, al massimo se si graffia si confonde con già i graffietti che c'aveva la texture del titanio di quell'iPhone, quindi anche là veramente zero pensieri, sicuramente è stata una scelta molto azzeccata. Magari forse ecco mi piacerebbe che ci fosse poi una texture diversa sull'iPhone 16 Pro Max, però sono dettagli, sono dettagli. Anche per quanto riguarda la colorazione, devo dire che questo colorazione di titanio naturale a me non mi ha stancato minimamente, al contrario sia del nero del 14 Pro Max e magari di altri colori, tipo il Blue Pacifico per quanto fosse bellissimo, dopo un po' a me mi aveva stancato, soprattutto perché sono colori molto scuri, a me piacciono di più i colori chiari, non c'è niente da fare, infatti l'azzurro sierra era chiaro e non mi ha mai stancato, anzi lo rivolrei un iPhone azzurro sierra. Quest'altro colore non è sicuramente tra i più chiari che esistano, ma è comunque un colore chiaro, il titanio naturale, e non mi ha stancato minimamente. Quindi, quindi, top da questo punto di vista. Spero che il titanio naturale rimanga per i prossimi iPhone e che magari uscirà anche un colore che sia nuovo e che sia decente, non quel rosa di cui si vocifera, che a me onestamente non piace. Poi ci sta che magari ad altri possa piacere, ma a me onestamente no. Ora veniamo a un punto dolente, la batteria. Come mi sono trovato in questo annetto, diciamo così, di batteria? Allora, devo dirvi, all'inizio non tanto bene, poi piano piano si è ripreso. Non è mai stato i livelli critici, secondo me, dell'iPhone 14 Pro Max, ma neanche i livelli stellari dell'iPhone 13 Pro Max. Però, alla fine, non mi posso neanche lamentare. La giornata me la faceva fare quasi sempre, tranne questa settimana che ho passato in vacanza, ma perché lì non c'era il Wi-Fi in camera. Stavo perennemente in 4G, poi, stando anche in vacanza, si fanno tante foto, si fanno tante video. Quando stavo in piscina sdraiato, usavo anche il telefono, magari, per ascoltare musica, per ascoltare podcast. Ci stava che poi alla sera dovevo darla per forza a una botta di ricarica. Però, ecco, rispetto al modello precedente, è migliorato. È migliorato, in realtà, però, anche per quanto riguarda la salute e batteria. Ora, io so che questo è un discorso molto complicato. Lo sappiamo, ci ho fatto vari video, ne ho parlate varie volte su X, però, insomma, relativamente, anche qua, nella mia esperienza, rispetto al modello precedente, la batteria si è usurata molto di meno. E questo, in realtà, è anche un dato di fatto, perché Apple stessa ha detto che le batterie degli iPhone 15 Pro Max hanno il doppio dei cicli, praticamente. La batteria del telefono prima aveva 500 cicli come, diciamo, vita massima, mentre la batteria di questi iPhone 15 Pro Max, Apple stessa ha dichiarato che sono di 1000 cicli. Quindi, fate i conti, è normale che la batteria si usuri molto, molto meno. Io sono arrivato alla vendita con il 97% di batteria, mentre l'anno scorso stavo tipo al 95-94%, se non addirittura al 93%. Capite che la differenza è anche abbastanza. Però, anche qui, dipende da iPhone ad iPhone, da quali utilizzo avete fatto, da quanti cicli, da come l'avete ricaricato l'iPhone. Quindi, è veramente un discorso che potrebbe andare avanti per ore. Ragazzi, mi sono accorto, però, di essermi dimenticato di parlarvi, forse, di una delle cose principali dell'iPhone 15 Pro Max, ovvero il tasso azione. Allora, lo saprete. Io già ve ne ho parlato, secondo me è stato un'ottima funzione sulla carta, ma anche alla fine, per quanto mi riguarda, si è rivelato una mezza delusione. Perché? Perché alla fine io l'ho sempre usato per mettere in silenzioso o in suoneria l'iPhone, un po' com'è lo switch del silenzioso che ho, per esempio, adesso sull'iPhone 15 Plus. Quindi, alla fine, è stata un'aggiunta, non aggiunta, per me. Poi, ho visto che alcune persone, comunque, lo utilizzano con quella sorta di comando rapido che ti permette di fare varie operazioni, altri che la mettono per la torcia, altri per la fotocamera, però, insomma, secondo me, non è stata questa grande rivoluzione. Fatemi sapere voi per cosa lo state utilizzando, il tasto azione. Ora, torniamo al video. Non vi sto qui a parlare della fotocamera, è ovviamente ottima. Io non sono un fotografo, mi diverto semplicemente a fare foto e video, ma per quello va veramente bene. Ci mancherebbe anche altro, è un iPhone Pro, cioè, è veramente il top che potete prendere relativamente ad iPhone, quindi ci sta, ovviamente. Anche per quanto riguarda la potenza, non ho mai avuto nessun problema. La 17 Pro è un signor processore, ho sempre giocato, ho sempre riuscito a montarci video direttamente su iPhone in maniera super fluida. Il primo processore ha 3 nanometri, insomma, anche qui non penso che ci sia da fare qualche tipo di discorso. Mentre voglio fare un discorso relativamente alla USB-C. Perché? Perché è stata effettivamente la svolta, ragazzi. Cioè, in questo anno di USB-C mi sono trovato veramente molto più comodo. Già adesso che sono partito non mi sono dovuto portare i 10.000 cavetti. Mi sono portato un cavetto USB-C per iPhone e iPad Pro e poi, ovviamente, il caricatore per l'Apple Watch. In realtà c'avevo anche una basetta, però, insomma, potreste portarvi semplicemente due cavi, ovvero quello da USB-C per iPad e iPhone e poi quello per ricaricarvi l'Apple Watch. Sarebbe carino se Apple mettesse una sorta di possibilità di caricare con la USB-C anche l'Apple Watch, ma capisco che sia difficile perché qua serve tipo una roba magnetica. Dovrebbero mettere una porta USB-C qua bruttissima, quindi penso che questo non succederà mai. Però immaginatevi un futuro in cui con un singolo cavo caricate anche l'orologio, caricate veramente di tutto. E questo mi ha fatto anche capire che avendo le AirPods ancora con il Lightning, penso sia l'unico prodotto che ho ancora con il Lightning. Ah no, anche le AirPods Max, insomma, ho ancora qualche prodottino con il Lightning, mi stanno veramente qua perché sono scomode semplicemente per quello. Però ecco, insomma, l'unico prodotto a cui serve effettivamente il cavo Lightning sono le AirPods Max perché anche le AirPods Pro posso caricarle semplicemente con il MagSafe, quindi anche là posso cavarmela egregiamente. Però insomma, la USB-C è stata una svolta, quindi spero che con il passaggio del tempo, magari con i prossimi modelli di AirPods, riuscirò ad avere un intero ecosistema con la USB-C. Quindi insomma, ragazzi, cosa dire di questo iPhone? Alla fine è stata sufficiente come esperienza? Sicuramente sì, non sarà forse l'iPhone che ricorderemo come il migliore di sempre, ma è stato un buon iPhone, è stato un buon iPhone, non mi posso assolutamente lamentare, ci sono stati quei piccoli problemi di surriscaldamento iniziali, però sono a me molto esagerati, io lì non avevo avuto problemi in realtà. Ecco, l'unico surriscaldamento che effettivamente poi ho avuto è adesso in estate, ma ci sta, fanno 50 gradi. Ragazzi, cioè purtroppo, penso che anche l'iPhone ad una certa dica guarda, io non ce la faccio più, lasciami riposare. Quindi insomma, speriamo che con i prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max la situazione migliore anche da questo punto di vista. Fatemi sapere voi ragazzi, se state pensando di vendere il vostro iPhone, se già l'avete venduto, se volete acquistare i prossimi iPhone, oppure se rimarrete con il vostro iPhone attuale. Quindi fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, e se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al canale, mi aiutereste veramente tanto. E no, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!